E' uno, eh! Arravecchia! Arravecchia! Non tirare sempre, calma Davide! Gira da là, gira! Gira, uscita Davide! Davide! Quando ti carica, non tirare sempre, gira! Non devi tirare sempre! Viene lui, eh! No! Secondo posto per Punto Vincenzo, Andro Paolino. Prima posto per Fabi Sampira, davanti Bergamo. Davide, 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 sta facendo l'incontro lui. Non fargli fare l'incontro a lui, Davide! Quando tu ti muovi, lui indietreggia! Buono! Continua! Davide, quando tu ti muovi, lui indietreggia! Non farà avanzare sempre lui! Davide! Tu al centro, non lui! Vai tu al centro, non lo far avanzare! al centro di non lo fa ecco la Davide ora arriva subito eh ora arriva subito lui Davide arriva subito eh Gira 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 for quello no calma Davide calma calma Davide non gambe quando avvicina Davide prestalo tu tu lo devi prestare ora come stanno a farlo a farlo ma sotto Martina Argento Davide, calma, 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 gira, gira da là, parati sotto attacchi tu, devi attaccare tu Davide, devi attaccare tu, che quello indietreggio devi attaccare tu Davide, devi attaccare Davide, calma, 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 calma